Un giovane extracomunitario non ancora identificato è morto ieri sera travolto da un treno nei pressi della stazione ferroviaria Dugenta-Frasso-Telesino lungo la linea Benevento-Caserta. Non è ancora chiara la dinamica dell'incidente, la vittima potrebbe essere un ospite del centro di accoglienza di Dugenta e gli agenti fino a notte inoltrata hanno ascoltato gli altri immigrati. I 240 passeggeri bloccati a bordo del convoglio dalle 22.30 alle 2 di questa notte hanno ricevuto assistenza dalla protezione civile. Gli ordini professionali in campo per offrire esperienza e know-how agli studenti che saranno coinvolti nei progetti di alternanza scuola-lavoro. Diego D'Onoro. Sono 1.200.000 gli studenti coinvolti nel progetto di...